La mia idea Tu Marti che cosa ne dici? No Quando servono i soldi si fa così Voglio aprire un sito di Camgirl Sai, in questi siti di solito le ragazze le sfruttano e basta Il denaro era il loro obiettivo Tu lo sai che io mi comporto così perché ti voglio solo per me? Devi aspettarti le cose più strane Ho scoperto che mi piace farmi guardare mentre mi masturbo Beh, a chi non capita, anch'io lo faccio Piacere agli altri era la loro missione Ma è così forte da farmi male Non smettire Ma voi non vi sentite mai sporche? Cosa sono questi soldi, Gilda? Chi cazzo te li ha dati? È la prima volta che esco con un cliente Questo è il momento di eccellerare Ti sembrerà strano ma io qui dentro mi sento amata Ti ammazzo Ma io sono soltanto tua Ti sembrerà strano ma io qui dentro mi sento amata